Musica Abbiamo fatto partire la nostra competition per la jam Hanno partecipato 37 istituti con 300 ragazzi e 64 idee imprenditoriali Noi con questo tipo di esperienza si stiamo rivolgendo alla massa dei giovani a quelli che costruiranno il futuro di questa regione, il futuro del paese Quello che dobbiamo fare di più è collegare la ricchezza dei luoghi della formazione con la complessità che c'è fuori da quelle scuole Creiamo le condizioni affinché un ragazzo o una ragazza in questa regione se ha un'idea, un'opportunità, possa trovarsi dentro un sistema che lo ascolta e la persona non è più sola Musica Musica